Signora Bartolotta, le risulta che suo marito fosse vicino o affigliato a Cosa Nostra? Ah certo sì, mio marito era amico dei mafiosi e mio figlio era concio la mafia. Mio marito lo buttava fuori di casa e io di nascosto faceva rientrare. Ci preparava il pranzo, le cose su, faceva mangiare. Poi il padre lo vedeva e lo cacciava nata a vota fuori. Però non lo voleva toccato a suo figlio, no! Diceva ammazzate a mia, non a mio figlio. Poi suo marito si recò in America per trovare dei parenti. Sì, forse a cercare protezione per lo figlio. Stai su un mese e poi ritornavo. E a settembre morivo. E poi? E dopo sette mesi hanno scannato a mio figlio.